Ciao ragazzi, come state? Oggi apriamo due LOL Surprise una Pets e l'altra Little Sister entrambe sono della serie 3 e dell'ultimo Wave quindi iniziamo subito allora, io direi di iniziare da quella piccolina, quindi della Little Sister appunto qua come vedete c'è scritto serie 3 ce ne sono più di 35 da collezionare e abbiamo 5 strati di divertimento apriamolo subito allora, iniziamo dal primo strato che incredibilmente sono riuscita ad aprirlo completamente e in modo corretto allora, vediamo l'indizio allora, una roccia e una porta Rock Door potrebbe essere no, Rock Out quindi Rock Fuori no, non saprei apriamo il terzo strato dove ci sarà l'adesivo fantastico e questo è riuscito a aprirlo a metà però, bene vediamo uh, gialla che forte che forte allora, vediamo subito allora, sì qua abbiamo un adesivo classico che ci dice che queste lì cambiano colore con l'acqua fredda guardate che tenera che è questa mamma mia che adorabile fantastico fantastico allora fanno sempre parte diciamo di quella linea appunto che può diventare un portachiavi allora abbiamo il bigliettino su come far cambiare colore alle nostre little sister questa è la ball che appunto si chiude come vedete qua c'è la vaschetta con le paperelle il tappo della vasca mentre questa sembrerebbe quasi una non so qua c'è un cuscino una sedia di quelle sapete che sono di moda adesso fatte così rotonde allora vediamo un attimino abbiamo una, due tre cosine apriamo la checklist perché è quella che mi spiega un attimino di più allora da questa parte abbiamo le lol confetti pop che abbiamo già visto in un video precedente e qui appunto find us in pearl surprise quindi la fantastica pearl surprise che tra l'altro doveva esserci nell'uovo di pasqua ma mi pare che in pochissimi hanno trovato e qua invece abbiamo le little sister sono davvero molto carine e vediamo a me piacerebbe trovare forse la little unicorn molto molto cute e anche in questo caso sono sempre divise in popolari in fancy in rare e in ultra rare allora vediamo subito questo è il portachiavi da inserire qui ecco vedete messa così è proprio una poltroncina adesso non vuole star più prima stava ecco più o meno allora mi piace tanto anche questo rosa oh che carina no guardate che puccioseria che è questa lil qui ha delle macchioline vediamo questa che lil è allora eccola qua è lil grunge ed è una popular e fa parte appunto del rock club vediamo la sua borsetta che bello questo è uno zainetto guardate che carino molto molto carino eh sì mi piace molto 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 carino allora quindi questa è la lil che ho trovato una popular ora apriamo il il pezzo e vediamo chi troviamo poi li metterò tutti e due in congelatore per vedere il cambio di colore ah no manca ancora l'assessorio piccolo piccolo qua ci saranno tutte delle scarpine vediamo ah no forte guardate un microfono bello molto molto carino eh sì ecco mettiamo così allora apriamo il nostro pez eccolo qui abbiamo questo dalmata guardate che carino con le macchie a forma di cuoricino qui abbiamo sette sorprese e niente iniziamo ad aprire allora fantastico ci sono riuscita un'altra volta incredible allora vediamo l'indizio allora ci sono questi shiny tipo questo tornare indietro è 13 non avevo più idea scusate flash black friday no back friday flash back friday ma chi sarà cosa sarà apriamo il secondo strato ecco a metà wow guardate che fucsia sparafresciante qui abbiamo il nostro bigliettino con un po tutte le cose che potrebbe fare il nostro pez e chissà se è un pez un gatto o un cagnolino guarda che carina è questa vediamo vabbè questo si apre così mi piace che su queste ball l'hanno cambiata l'hanno fatta uguale a quelle delle lol normali mettendo queste zampine da cagnolino gattino le trovo veramente adorabili qui abbiamo la sabbietta anche l'idea del collarino è fantastica allora uno due e tre manuale del proprietario che carina ecco qua beh queste sono le classiche cose che sapevamo già allora vediamo la check eccola eccola qui allora guardate quanti e quanti e quanti sono carini quanti e quanti vabbè lasciamo stare allora io tra l'altro ho questi il splash mio e dove è il cagnolino e il fancy hot dog sono super cute guardate che carini ok dai ragazzi vanno le ciance apriamo perché sono troppo curiosa allora intanto apriamo la paletta per vedere se è un cane o un gatto no questo è l'accessorio no è super cute è una polaroid e qua abbiamo già ormai l'indizio dove abbiamo appunto la lol e il il pet che quindi è un penso che sia questo a sto punto jitter critter credo di sì sembra molto molto carino vediamo allora facciamo questo che è più piccolo che non si vuole aprire ok prendiamo le forbici ecco la palettina esatto guardate nera un po' dark ha forma di coniglietto vedete c'è sia l'immagine del coniglietto ma anche la forma delle orecchie qui abbiamo la bottiglia wow bella trasparente con la scritta baby go go troppo bella bellissima e infine qui abbiamo il nostro personaggio mamma che grande non l'immaginavo così grande caspiterina è enorme che carina che occhi nerissimi che ha cute allora qua ha i bocchini sugli occhi quindi appunto piangerà molto probabilmente anche perché sulle orecchie no le orecchie c'è l'acqua su quindi improbabile e quindi questa piangerà proverò poi a metterlo nell'acqua si nell'acqua in congelatore in questo caso però caspiterina che grande io ho visto ho trovato soltanto dei piccolini quindi non mi sono mai resa conto di questi grandi grandi allora apriamo anche la sabbietta vediamo che cosa c'è wow guardate che bel colore la palettina vedo già qualcosa di un bellissimo colore una collanigna guardate che bella wow stra adoro aspetta dove l'ho persa eccola qua aspettate che gliela metto oh guardate che cute no troppo troppo carina mi piace tantissimo questa sabbia cinetica cioè io la stra adoro la stra amo è super rilassante wow ok ragazzi allora vado a mettere in congelatore per un attimo sia il nostro coniglietto che la nostra lille e vediamo se lei sicuramente cambierà vediamo se cambierà anche lei allora un attimino e arrivo rieccomi guardate allora lo sto tenendo in mano perché eccola qua come è cambiata la lille allora gli sono venute le calciarete che stanno già sparendo la mutandina è diventata azzurra con la faccina con gli occhi a x quindi questa faccina qua praticamente la maglietta nera con i buchini non so cosa sono e poi i capelli viola cioè proprio un cambiamento completo fantastica mentre la conigliettina questa qui è rimasta tale e quale beh devo dire che mi piacciono tanto sì dai allora la lille è molto molto carina particolarmente in modo mi piace tantissimo lo zainetto è troppo carino cioè troppo forte sì questa è veramente molto carina la conigliettina non lo so mi lascia un po' perplessa mi piacciono moltissimo i suoi accessori però non lo so forse perché me li immaginavo tutti piccoli non li avevo mai visti così grandi quindi questa mi lascia un attimino perplessa comunque vediamo è che è una una fancy eccola qua vedete è una jitter crit ed è una fancy è appunto lei pia... anzi no scusate qua dice che o fa la pipì o sputacchia si sputacchia decisamente perché pipì no non la fa quindi sputacchia anche se vedete ci sono i buchini degli occhi quindi a quanto pare non vuol dire nulla bene ragazzi questo è quanto io adoro questa sabbietta mamma mia voi cosa fate della sabbietta delle delle pets la buttate via ci giocate cioè è veramente super rilassante veramente la adoro ok niente allora cosa ne pensate del video vi è piaciuto cosa vi è piaciuto di più la lil o il petz scrivetemelo giù nei commenti e scrivetemi anche cosa vi piacerebbe che provassi ad aprire insieme a voi io vi saluto vi ringrazio sempre per seguirmi mi raccomando mettete tanti pollicioni in su iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e noi ci vediamo al prossimo video baci e abbracci ciao ciao